Buonasera a tutti, questa sera c'è una piazza gremita, una piazza piena, questo fa capire quanto Sant'Agata sia vicina a Rosario Crocetta, quanto Sant'Agata sia vicina a Carmelo Sottile. Voglio iniziare con un ringraziamento a Rosario Crocetta. Presidente, grazie per la sua presenza oggi qui. Questo ci fa capire che veramente lei è molto vicina a questo territorio, è molto vicina a questa città, è molto vicino soprattutto ai siciliani. Grazie Presidente, grazie per quello che ha fatto in questi mesi di governo, grazie per quello che ha iniziato a fare per questa Sicilia, quella rivoluzione della dignità che oggi è qui rappresentata oltre al Presidente da Carmelo Sottile, una persona umile, una persona che ogni giorno vive le problematiche di questo territorio, sia nel suo lavoro, sia nella vita fuori dal lavoro. Dico grazie a Carmelo per quella grande scelta che ha fatto un mese fa di dare la sua disponibilità a questo Paese. Questo Paese aveva bisogno veramente di Carmelo Sottile e con Carmelo Sottile e il nostro Presidente vicino a Carmelo Sottile e a questa coalizione, questo Paese potrà prendere quel volo che da tanti anni aspettiamo, questo Paese giorno 11, anzi giorno 10, con la vittoria di Carmelo Sottile, partirà la rivoluzione della dignità, quella rivoluzione iniziata a Palermo e quella rivoluzione che proseguirà per tutta la Sicilia, grazie ad una persona, onorevole Rosario Crocetta, grazie Presidente, a nome di tutta la città, grazie Presidente, a nome di tutta questa coalizione, grazie Presidente, a nome di tutti i santagadesi, grazie, grazie a tutti, viva Sant'Agata, viva Carmelo Sottile, viva il nostro Presidente. Grazie a tutti.